Musica Buonasera cari amici di Talk Sicilia e bentornati con noi Piccolo salto nel passato, a metà degli anni 90 o forse qualche anno prima Il leggendario gruppo musicale, gli 883, raccontava, divenne una ditta famosissima Raccontava che erano ucciso l'uomo ragno, hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa Ora ci troviamo nel 2023, che c'entra questa canzone con l'attualità? E io chiediamo a Giussi Badalamenti, che è qui con noi, benvenuta Giussi Secondo te che c'entra la morte dell'uomo ragno, del supereroe, con la tua presenza a Talk Sicilia? Te lo dico io? Sì Lo dico io, così non ti voglio mettere in palazzo Allora, perché questo piccolo gioco di parole è anche un po' stupido per introdurre la nostra nemica Giussi Badalamenti? Giussi è uno dei 2000 circa precari Covid che dal 28 febbraio hanno detto ciao ciao al loro posto di lavoro L'hanno detto ciao ciao senza neanche un grazie, con un'assemblea regionale siciliana che si è trovata assolutamente inerte E' impotente di fronte alle scelte categoriche e rigide del governo regionale Negli anni 90 si uccideva l'uomo ragno, ora si sopprimono e si mandano verso la povertà Perché nel 2023 non è semplice trovare un posto di lavoro Quelli che fino a qualche mese fa erano i nostri supereroi I supereroi che ci hanno salvato la vita, i supereroi che ci hanno permesso di vaccinarsi I supereroi che ogni mattina erano nei centri hub vaccinali per consentirci di avere rapidamente il tampone che ci faceva entrare al lavoro Ci faceva prendere un aereo Giusi, non ti senti distrutta moralmente da questo atteggiamento di una politica così insensibile rispetto a chi ha dato tanto alla società? Sì, mi sento distrutta e dico con profonda tristezza anche molto delusa Perché come dicevi tu Piero abbiamo dimostrato sul campo di avere grandi capacità E di essere dei professionisti anche all'altezza di, non dico combattere del tutto Ma comunque fare da scudo a una popolazione che aveva necessità del nostro aiuto Ah, perché molto spesso si trinceva di fronte al fatto E vabbè, ma in fondo stiamo parlando del personale amministrativo Il personale sanitario in qualche modo è stato avviato verso un percorso di stabilizzazione Però nessuno si rende conto che senza il personale amministrativo i medici non avrebbero saputo a chi somministrare i vaccini I medici non avrebbero potuto catalogare i tamponi Cioè è impossibile l'amministrazione burocratica della sanità Senza il personale, senza tecnologia, senza le idee e le risorse che voi avete messo a disposizione Infatti ti ringrazio proprio per questa osservazione Perché il periodo Covid ci ha dimostrato che la sanità non è fatta solo di medici, infermieri ed os Che hanno fatto un grandissimo lavoro I miei colleghi sono stati grandiosi Ma hanno avuto anche il supporto di una categoria che fino a poco tempo fa era sconosciuta Che era quella degli amministrativi Perché siamo riusciti, grazie ai miei colleghi informatici E tengo a precisarlo, esclusi dall'emendamento mille proroga a Roma Siamo riusciti a informatizzare un sistema sanitario antico, arcaico Quando in fiera la gente veniva per il semplice tampone e si registrava in una piattaforma Gli veniva dato l'esito tramite mail Veniva liberato, come dicevamo noi in gergo, sempre tramite mail Dietro questo lavoro c'erano dei ragazzi che hanno messo e hanno pensato e progettato un sistema informatico Che ha dato veramente grandi soddisfazioni A parte che è l'Hub della fiera Però io voglio parlare di tutti i miei colleghi siciliani Che sono nelle mie stesse condizioni Noi abbiamo dato la possibilità di un caricamento massivo di tutta la Sicilia Con tutti i positivi Noi riuscivamo tramite il nostro sistema informatico Perché questo tengo a precisarlo Noi in fiera non facevamo solo tamponi e vaccini Noi andavamo a casa delle persone e somministravamo gli antivirali Noi abbiamo dato il respiro ai pronto soccorso Perché naturalmente riuscivamo a captare il positivo a casa Il fragile a casa e arrivare in tempi giusti per somministrare gli antivirali Voi praticamente eravate la voce del personale medico Eravate voi a fornire ai medici e agli infermieri Le notizie sulla base delle quali poi si poteva intervenire Esattamente Che si intervenisse al centro Hub Piuttosto che, diciamo, poco importa Nel senso che è importante tutto in questo contesto Esattamente Noi eravamo la parte un po' più tecnica Un po' più, diciamo, informatizzata Che poteva aiutare ed aiutava il medico ad intervenire in tempi rapidi Con i nostri database e con tutto quello che potevamo offrire a livello proprio informatico Il famoso, la famosa, dove tutti parlano e abbiamo gli strumenti legislativi Ce lo chiede l'Unione Europea, ce lo chiede l'Italia La famosa telemedicina, la famosa digitalizzazione E' tanto decantata dai governi regionali passati e quello attuale Che alla fine non trovano poi sfogo all'atto pratico Perché appunto gli amministrativi vengono visti come qualcosa di superfluo Sì, perché praticamente c'è questa errata concezione Per cui laddove c'è burocrazia c'è uno stoppo In realtà voi avete stravolto anche il concetto stesso che si ha di burocrazia Laddove la burocrazia è signore di lentezza Voi invece avete dimostrato efficienza Perché la fiera non era Allora la fiera del Mediterraneo Sì, per parlare Parliamo dell'esperienza che ti è toccata personalmente sulla pelle Esatto, io parlo della fiera ma posso anche dire che la stessa realtà la vivevano gli altri hub vaccinali O comunque noi eravamo pratici Da noi non c'era la famosa mail Signora mandi la mail, deve arrivare al secondo piano per ritorno al terzo Noi abbiamo trasformato il sistema sanitario in maniera proprio pratica La gente arrivava da noi Posso interromperti un attimo Giuse Non solo in un modo pratico Però c'era anche la sensazione in quei giorni Nonostante il dramma che tutto il paese e tutto il mondo stesse vivendo Stava vivendo C'era la sensazione che la sanità fosse uguale per tutti in quel momento Il fare la fila per avere il vaccino Poi magari qualcuno sgattaiolava, per carità ci sta qualche eccezione alle regole Però le regole erano uguali per tutte Non è che forse levare la vostra presenza e quindi la vostra applicazione tecnica e burocratica Significa tornare alla sanità del passato per fare in modo che un po' la politica possa controllare e gongolare in quei meandri di servizio dove poi si genera il consenso non sempre puro Allora io posso sicuramente affermare Ovviamente questa è un'opinione Io sicuramente posso affermare da cittadina palermitana o comunque siciliana Quindi da persona che doveva e deve usufruire dei servizi sanitari come tutti noi Senza le varie raccomandazioni E da operatrice all'interno del lab vaccinale Ti posso dire che ogni tanto il dubbio mi è venuto Chiudere questo, non la fiera, perché non era la fiera E' un sistema, cancellare un sistema Cancellare un progetto, un sistema che funziona Per poter riconsegnare alla politica Il controllo dei bottoni Perché tu hai ragione quando dici in fiera Non c'era arriva X, arriva Y, raccomandazioni Io posso fare un esempio personale Noi siamo molto amici anche sui qua Ti ho mai chiamato per avere un vantaggio sul vaccino Per avere un tampone No, facevo la fila, aspettavo i 15-20 minuti Perché era anche necessario osservare Dal giornalista era necessario osservare quello che accadeva Sarebbe stato troppo comodo approfittare E poi non l'ho fatto anche perché Per certo che tu mi avessi detto Piero fatti la fila Sì e poi ti dico la verità Ribadisco, la fiera ma come tutti gli altri hub Erano veramente una realtà molto smart È vero, ci sono stati dei momenti dove le file erano molto lunghe Ma parliamo di 6.000 vaccini al giorno Quindi naturalmente ci siamo trovati davanti a C'è un muro umano Esatto Però dico fondamentalmente da noi non c'era la necessità Di alzare il telefono per dire ho bisogno di questo Da noi si arrivava e venivano serviti tutti Cioè erano tutti uguali Faceva pure il drive-in per fare il tampone Il drive-in E poi vorrei fare notare una cosa Perché molto spesso Non si sta attenti a un fatto Tutto questo personale Lavorava certo con le precauzioni del caso Però non è che fossero meno esposti Rispetto ai medici e ai infermieri Al rischio di un contagio Perché stare 24 ore Perché ci sono stati giorni in cui Non si ci fermava mai Magari si faceva a turno Ma stare 24 giorni Un ambiente dove c'era il concentramento delle masse Anche perché noi amministrativi Eravamo direttamente a contatto con il pubblico A contatto con l'utenza Io mi ricordo il corridoio B Che era il mio corridoio Io ero accanto al medico che faceva l'anamnesi La stessa cosa in certificazione Quindi i miei colleghi che facevano accoglienza Il back office, il front office Comunque noi abbiamo avuto Accompagnare i disabili per fare i vaccini Cioè noi abbiamo avuto un contatto Che comunque sia Era un contatto Vi hai sposto il rischio Esatto Completamente Cioè sì E oggi invece no Siete carta straccia Oggi Game over come dice il titolo di questa puntata Sì oggi Però diciamo la cosa che più fa arrabbiare È che in realtà una soluzione c'era Perché come si svolte adesso Ce lo chiede l'Europa Di investire sulla medicina di prossimità Sì E tu ricordo qualche settimana fa Abbiamo fatto anche un servizio su Videoregione Qualche mese fa C'era la chance Sì ho parlato proprio con te Progetto dei centri operativi territoriali Sì perché io mi ricordo Ne abbiamo parlato insieme In uno dei tanti servizi Che mi hai dedicato Praticamente sì Noi abbiamo creato Con alcuni colleghi Un progetto Un progetto sulla base Di una legge nazionale ed europea Che prevedeva Come da governo centrale È richiesto Il governo centrale è Bruxelles È la regola Cioè loro te lo dicono Quando ti vogliono dire no I politici Eh ma ce lo chiede l'Europa Questa volta ce lo chiede l'Europa Però non si fa Perché? Perché come dico sempre A chi mi chiede O chi mi fa questa domanda Perché portare avanti Un progetto come quello Della fiera Perché non è questo Cosa avrebbe dovuto In cosa consisteva Questo progetto dei cotti Allora noi avevamo creato Un progetto che evidenziava Tre super cot che rappresentavano Palermo, Catania e Messina Dividendo la Sicilia in tre parti E praticamente adottavamo Il modello covid Che abbiamo utilizzato Per il covid Per altre patologie Ovvero avevamo Una realtà operativa 24 ore su 24 Come centralino Nel frattempo Le famose usca Chiamate oggi uca Territoriali Quindi erano medici Amministrativi Osse autiste Pronti sul campo Ad andare ad intervenire Avesse avuto Tutta la persona Che c'è sui pronto soccorso Certo Perché naturalmente Quando la persona Ha un problema Di pressione alta E non cala Naturalmente va al pronto soccorso Invece nel nostro caso Potevamo prendere in carico Noi Il paziente Monitorarlo Come facevamo Con gli antivirali E praticamente trovare Cioè dare aiuto Intanto E ovviamente Per mettere in piedi Questi centri operativi Serve anche Il personale Che gestisca La parte amministrativa Ma io infatti Ti dico di più Piero Il problema della politica siciliana In questo caso Di un governo regionale Che io considero cieco Non è solo una questione occupazionale Bisognava spostare l'asse Su una visione di sanità Per l'altro scusacce lo chiede pure L'organizzazione mondiale della sanità Perché è stata dichiarata chiusa Forse ancora non Del tutto chiusa la pandemia Però l'allarme è stato Chiaramente abbassato Di covid Sostanzialmente Non si parla più Però l'alert Per nuovi rischi pandemici C'è Perché le pandemie Sono dovute All'antropizzazione del territorio E quindi come arrivati al covid Potrebbe arrivare un'altra pandemia Esattamente E che facciamo Ricominciamo da zero Facciamo il gioco del loro Non sarebbe stato più saggio Farsi già trovare preparati Con delle strutture operative Che poi al momento della bisogna Diventavano Il problema è che Come ho detto in passato In Sicilia Non si vuole crescere Perché dici in Sicilia In altre regioni Questa esperienza del cotto È già stata fatta Sì In Lombardia per esempio So che già Qualche casa di comunità O comunque qualche cotto È stato realizzato Naturalmente Devono inserire Diciamo Il personale I professionisti Però già Sono stati creati Perché Perché tutto questo Rientra nei famosi Fondi del PNR Quindi tu mi stai dicendo Che questo progetto Non è stato fatto Ma in realtà Alla regione Alla amministrazione regionale Non sarebbe costato nulla O quasi nulla E allora Devi pensare Che il mio progetto Comunque il cotto Questo tipo di realtà sanitaria Rientra nel piano PNRR Nell'asse per la salute Sì Nella missione 6 Si chiama Che sicuramente Per carità Non prevede Le risorse Per il personale Però io sono sempre convinta Che se c'è una visione nuova Un vero progetto Il progetto Ti dà la possibilità Di avere A sua volta Le risorse umane E le risorse economiche Per l'altro La resistenza ai cotta È richiesta All'Unione Europea Sì Cioè Che è l'Unione Europea Di care questo tipo di strutture Poi arrivano questi fondi In automatico In Sicilia Ritornano sempre indietro Per l'altro Leggevo un articolo Del nostro amico Nino Amadore Che scrive Sulle colonne Del Sole 24 Ore Che ci sono circa 155 progetti O forse 155 mila progetti Non vorrei dire Una castroneria Però invito tutti A leggere L'articolo di Amadore Sul Sole 24 Ore 155 mila progetti Che rischiano lo stop Perché sembra Che insomma Si parte Si parte Ma È sempre così C'è la solita chimera La solita chimera E io sinceramente Non A questo punto Non ci resta Che osservare Veramente Con grande dispiacere Perché ho visto Un'assemblea regionale Compatta Forse per la prima volta Su una proroga ipotetica A questi professionisti Precari Covid E dall'altra parte Un presidente schifane Un assessore volo Che non hanno Dato risposte concrete Però la proroga Era una soluzione tampone Comunque La proroga Si ma perché Perché c'è un processo Che a Roma Ci hanno dato La possibilità Di portare avanti Di una stabilizzazione Quindi c'era Ora il non avere avuto La proroga Cancella anche La possibilità Di stabilizzazione O c'è la possibilità No no Si si cancella Pure una Quindi diciamo Anche una bella Pugnata alle spalle Ma infatti Fratelli d'Italia Ha fatto un comunicato stampa Che ha richiamato L'assessore volo E il governo regionale Perché ha detto Cosa state facendo Ma naturalmente Questo governo Non c'è nessuna possibilità Di fare marcia indietro Su queste cose Ma noi A norma di legge Cosa dire Io capisco Che è anche imbarazzante Perché come pietire Il proprio posto di lavoro Quindi capisco Che la dignità L'orgoglio di una persona Vanno oltre Come dire Il rapporto col politico Però tu mi stai dicendo Che se Fosse arrivata Una proroga Di un paio di mesi Forse Ci sarebbe potuti Agganciare Una stabilizzazione Che è il governo nazionale Si tramite concorso Attenzione Perché Però si Vabbè c'erano i concorsi Con le riserve Per i personali L'emendamento a Roma Dava la possibilità Di un iter Di stabilizzazione In un totto di tempo Diciamo Si sarebbe acceduti A una procedura concorsuale Con Certo La validità Del percorso Certo Perché c'era La legge Madia Quindi c'era Una serie di requisiti Che ci davano La possibilità Di Ora il problema Io vi ero Proprio in stile guapparia Quest'operazione Sì sì Andate Grazie Arrivederci È stato un piacere Avervi conosciuto Ma io ribadisco Quello che mi fa Io credo che però Poi diciamo Se si dovesse Bandire un concorso Tu potrai Tu come tutti gli altri Potreste fare valere Le vostre ragioni O non ci sarà Sine titolo Come dire Per partecipare Al momento Non abbiamo Nessun tipo Sì Alcuno strumento E ribadisco A me quello che Preme dire Che mi fa veramente Rabbia È che non c'è Una visione di sanità Per questo popolo Non c'è È impossibile Che una persona Che i soldi Va a pagamento E si fa le cure Chi non ha soldi Deve naturalmente O chiedere La raccomandazione Per accorciare I tempi di attesa O è finita Allora Se vogliamo continuare Con questa visione Di sanità Arcaica Antica Fuori a lamentarsi Non danno Mi soffermo Diciamo solamente A queste piccole Dalla protesta Dalla protesta Alla proposta Come dicevano I compagni comunisti Negli anni 70 E adesso Che fate Allora C'è la battaglia continua O vi siete resi Allora io credo che Come l'assessore Ricordo Capodanno Capodanno a centro Covid C'è quasi un cinepanettone E io vi dico di più Mentre noi siamo abituati Che il venerdì Alle 15 Gli uffici regionali Pubblici Chiudono Noi non abbiamo mai smesso Sabati Domeniche Cioè la gente Vedeva in noi Un posto Dove potersi Sentirsi protetto Dove Ora ci vuole La famosa frase Dell'ex commissario Renato Costa Noi curavamo Ma ci prendevamo cura Noi avevamo I volontari Che portavano le spese Quando nessuno Poteva uscire da casa Cioè queste Sono veramente Osservazioni Ricordi Che Come spesso Beh però Questa esperienza Non te la leverà A mai nessuno No infatti Quello sì Questa medaglia Al volor civile Ce l'hai E tu con tutti i colleghi Precariato Covid Sì quello sì Perché ti dico la verità Piero io credo Che abbiamo scritto Una bella pagina Di storia In un momento Forse nel momento Più drammatico Della storia dell'umanità Anche perché Per la prima volta Palermo si è pure Distinta a livello Di percentuale Di vaccinati Abbiamo avuto Dentro lab Importanti visite Dove ci hanno fatto I complimenti Da figuola A Mattarella La figlia di Ceghevara Esatto Da Cuba Da Tessere Lodi Poi è venuta Il presidente Mattarella Ci mancherebbe Però che da Cuba Che sono tutti Che è il paradiso La sanità Perché Sotto embargo Praticamente da sempre L'isola caribica Ma c'è una cosa Che funziona a Cuba Da sempre La sanità Sì sì È vero La figlia del Cere Sì esatto Si arriva e venuta Naturalmente si è complimentata Con tutti noi Ma anche l'agenas Che ci ha inserito Tra le migliori pratiche Ricordiamo a chi ci ascolta Poi se sia l'agenas È un'agenas Vi venga riconosciuto Esatto Incaciamo le dita E soprattutto Questa battaglia Non è solo Per una questione occupazionale È una battaglia Anche per tutti noi E per tutti i siciliani Perché oggi e domani Dovesse arrivare Facciamo i debiti scongiuri In un'altra crisi Ma sempre ti ripeto Piero Non aspettiamo La crisi pandemica Di nuovo Ma il semplice Anziano Che si trova a casa Che non ha la possibilità Di interagire con nessuno Purtroppo c'è una tradizione Che è difficile A sradicare in Italia Purtroppo Questo paese Riesce a dare Il meglio di sé Soltanto quando è in ginocchio Lo dimostrano i terremoti Le crisi naturali Lo dimostra il periodo Delle stragi Questo paese Riesce a dare Il meglio di sé Soltanto quando viene Svilito e umiliato La ribellione Che c'è stata in Sicilia Dopo le stragi del 92 Del 93 Ha cancellato Il corso della storia Ma non dobbiamo Sempre trovarci in ginocchio Per poter far valere I nostri diritti E io credo Che anche se Si tratta di precari E chi ha dato tanto Chi per tanto tempo È stato considerato un eroe Ha il diritto Di rivendicare Un posto di lavoro dignitoso Ti ringrazio Giuse Il tempo è ci dedicato Grazie a voi Un caro saluto A chi ci ascolta Condividete questa storia La storia di Giuse Badalamenti E dei precari Covid siciliani Perché è una storia Francamente Che non deve restare Sotto silenzio Grazie Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti